Grazie a tutti Vai, vai di su Vai genitori, accogliamo questi bambini, vai I vostri figli, vai I treat you like a real lady, I keep you out the cold Just getting started Eccoli qua, mi tengo l'idea gli ultimi punti Sono 700 punti solo, gli ultimi Hai ragione, guarda, potete vincere No, 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 prima si In crucia, in crucia Ratta, bravi Vai genitori, vai Ratta, razza Venti Venti Vento fatto La tua voce signore che a me la vinde Vento fatto Guardo lo senso, guardo intorno e mi canto Vento fatto Mi circonda il mondo, adesso mi reinventare Semplicemente penso a questo dono d'amore Che mi hai Vento fatto L'azia del mondo, hai popolato VentoKEN Vento fatto Vento fatto Vento fatto Adivameteful Così non ho orro e il pensaggio Si Venti los D G Saf F Siamo pronti? 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 Fatto! E voi ci riuscite a fare le cose così? Sì! Sì! Sicuro? Sì! Facciamo un esempio. Allora immaginiamo che mentre state giocando mamma vi chiama e dice mi aiuti a mettere la tavola voi detto? No! Veramente? Non fatto! Oppure dite vabbè aspetta un momento, adesso devo vedere i cartoni, adesso sto facendo un'altra cosa. Eh? Va bene. Allora mi raccomando, noi siamo figli di Dio, Dio ha creato il mondo detto fatto e noi dobbiamo essere quelli che fanno il bene detto già fatto. Va bene? D'accordo, auguri a tutti. vogliamo fare anche se non si entra con il detto fatto, però è degli scout che facciamo ogni anno, però piace, allora lo riproponiamo ogni anno. Eh! Ale! Eci checi che torna! Eh! Ale! Eci checi che torna! Abbassa, abbassa, abbassa! Abbassa, abbassa, abbassa! Oh, aloe, aloe, aloa! Oh, aloe, aloe, aloe! Più forte, più forte! Adesso il vescovo ci dà la benedizione, apriamo il buffet, resta un po' con noi e poi ecco dopo continuiamo, se il vescovo ci preoccupate fino all'ultimo è una gioia e c'è la prima azione, c'è la visione di un filmato. Va bene, allora il Signore sia con voi. E con il Signore! Dopo tutto quello che avete vissuto sulla creazione in questi giorni possiamo dire sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedico a tutti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Bene! Allora, ora continuiamo a scrivere. Allora, ora continuiamo a scrivere. Allora, ora continuiamo a scrivere. Allora, il nostro vescovo ci saluta, noi lo ringraziamo con un grande applauso. Grazie a voi, complimenti per quello che avete fatto e l'augurio di fare cose sempre e ancora più belle. Grazie a tutti! Grazie a tutti ragazzi! Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie a tutti! Sì! 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 E qui Vincenzo vi deve mandare la musica! Sì! 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 Sì!